E bella a tutti ragazzi e ragazze e ben ritrovati dalla vostra Croatomist Oggi ragazzi siamo qui con un video particolare perché vi sto per portare un videogioco Che qua sul mio canale non vi ho mai portato Stiamo parlando di Overwatch 2 Che è uscito ben circa due settimane fa Free to play, meno male E devo dire ragazzi che da quando è uscito non ho più smesso di giocarci Perché me ne sono completamente innamorata Credo che Overwatch 2 sia un gioco fenomenale E metto subito le mani avanti dicendo che io non ho mai giocato ad Overwatch 1 Se non letteralmente un giorno contato Perché tipo sette anni fa l'avevano messo free to play durante un weekend L'ho provato, mi era piaciuto ma è finita lì Perché il gioco costava 40-50 euro, non ricordo Quindi mai comprato, mai giocato Questa è la prima volta e devo dire ragazzi che veramente mi sta facendo tantissimo C'è proprio una boccata d'aria per quanto riguarda i videogiochi che non avete idea Infatti ho dovuto sbloccare anche le ranked E ho dovuto fare appunto 50 vittorie in pubblica Cosa che ho fatto praticamente in due giorni E è da dieci giorni che appunto sto rankando all'incirca Forse anche un pochino meno Però appunto sono riuscita a raggiungere il platino 4 In pochissimo tempo che per me è comunque un traguardo molto grande Essendo che comunque non avendo mai giocato ad Overwatch prima d'oggi Per me onestamente è un traguardo molto molto grande Sono soddisfatta Non ve lo so neanche a dire ma ovviamente gioco a me in DPS Perché lo sapete che se Martino non si mette lì a fare i danni Non sarei ovviamente io Ho molti diciamo campioni che uso principalmente Come per esempio Soldier, Sojourn, Pharah, Ash E ogni tanto quando capita in base alle situazioni uso anche Reaper Ma oggi dobbiamo vedere delle partite principalmente con Pharah E come sono arrivata appunto a Platino 4 Quindi ragazzoli se vi volete vedere altri video di questo genere Mi raccomando fate una sembra qui sotto nei commenti Iscrivetevi al canale E lasciate un bel pollicino in su Ma ora abbiamo parlato fin troppo E adesso è il momento del gameplay Vi auguro una buona visione Comunque volevo leggervi un commento di una persona su Twitter Che mi ha fatto abbastanza ridere Cioè erano un commento, un tweet proprio Quindi non me ne fai staccato Se lo dico non mi interessa Porco, i miei genitori mi tolgono il PC un'altra volta Non gli auguro malattie solo perché mi pagano la connessione Tu devi avere veramente un problema Come fai a tweetare una roba del genere, Pharah? Ma come fai? Allo? Capito Corretta? Eh, corretta Vai, arrivo Vai Hanno Battista e hanno Anzo Anzo, manzo fa... Winston sta pushando, Winston sta pushando Vai, Anzo, vai a me Ah, però, tra l'altro, l'altro, l'altro è meglio Eh, muovo Se non riesco, non riesco No, mi ammazzano, mi ammazzano, mi ammazzano Zag, non è a vedere Si posizionano bene Eh, arrivo Vai, vai, vai Sì, sì, ho fatto anche con te, hanno fatto i due comunque La graveniamo noi Ah, oh, regalo, regalo Il point No, no, ma dobbiamo zonare Prima che arrivano gli altri Pure, pure, pure Io non ci serve Va bene, va bene Ah, quindi, Rosa, quei punti lì rimangono sempre Sì, perché io ve ne prendi fino alla tecca, va bene Ok, non lo sapevo che quelli fossero fissi Entra, entra con lui Morto, Anzo, brava, brava, Zaggo Vado su Battista, gli devo la roba Guarda, mi ha fatto da ulti questa snor Stai parlando in game, stai parlando in game Cuore, cuore, cuore Stai parlando il tank No, è Tataros Ah, scusi, sapevo che là No, no Rieschi a restarlo, eh No No, non puoi? Vai, 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 vai Quando passa troppo tempo non ne vuoi restare No Eh, respawno Guarda, guarda come mi ha fatto uscire Appare che c'era l'ultimo, vabbè Quasi morto Non lo sape niente, non lo sape niente Regruppate che è morto No, è italiano Morto, morto Dead Che poi sta stranando da notte Picca, sei sola Se vieni indietro ti prendo Se vieni indietro ti prendo Un HP, uno di più sciso Ok, non toccare Zaria, non toccare Zaria No, no, che tocca, io non posso stare a... Battista, morto, Battista, morto Votati, voti, fratello, vamos, vamos La Zaria, la Zaria Vai, vai, vai Zaria di merda, non muore Devo poi stare rossa È morta Morto, Anzo Soldier Oh, ha arrestato il tank Vieni indietro, vieni indietro Ora arrivo, ora arrivo, ora arrivo, ora arrivo Ho ammassato due, ho ammassato due DPS Ulta, ulta pure solo per uno, eh Martino Sono morto, però sono morto, sono morto Prendala, infatti non riesco a prenderla Sei andato sopra il te, attento con l'ho ammassato Morto Vai, ti vedo, ti vedo, ti vedo Ulta, ulta Morto una, morto due Bravissima, vai, 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 ti ho, ti ho Oh, la Zaria qua dentro Non muore mai, questo No, ti giuro, la seri, ma Sembano immortali le Zaria Vai, ultato, ultato, ultato Zaria, dietro Vai, 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 vai Vabbè, vabbè, hanno sprecato tutto Solti, 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 è rotato lui Zaria, sono ammassato la Zaria Beh, ci hanno usato tutto, ci vado tantissimo Ora li distruggiamo Eh, va bene, va bene, è worth Hanno sprecato Ah, infatti, ma va bene Sto curando Sto usato in maniera difensiva Sto arrivando C'è il tank da curare Vai, venite Eh, anche io Vabbè, resistiamo, resistiamo Resitiamo Ah, vabbè, non l'hai sbagliato No, 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 vai, tra, vai, tra Coratemi Lo spaccati Alla ultima Ok, ulti, vai adesso, vai adesso, cominciamo, nini, nini Andiamo, andiamo Nini, fratello Ulto Bravissimo Tengo, ti tengo Ress, rest, rest Tira, 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 tira S, vai Coratemi a me che tra poco ce l'ulti Vai, vai, vai Solge è morto È morto anche Anzo È da qua, qua, qua È morta Vai, easy È morta Nice EG Ma Winston è forte Il personaggio è un bello rognoso Che buono Grazie Cosa giochi? Sei bravo con D.Va Sembra che D.Va ti good Va bene Sì, sì È italiano È italiano, sì, siamo andando a mezzaro No, no, vabbè, per me Cioè, Winston, noi siamo in attacco dopo Perché è giocato buono Bene, bene Pronta È perattente, secondo me Sì È la solità Io ti potenzio Quando vedo che prendi danno ti giuro Sono tutti alf, te lo giuro Io ti ho tirato un alizio in testa Ok, va allora Anzo è morto Vieni qua Ci sono gli healer È tipo l'uso e il moria sono loro È morto anche Reaper Sì, è morto anche Reaper Vai, 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 vai Sono sul Lucio Morto Lucio Basta, basta, basta Guardalo, Martin Becchiamo, becchiamo, becchiamo Ho appena c'è di ulti tiratelo È chi? C'ha il Martino Io non ce l'ho Berevo l'ulti, berevo l'ulti Per questo è lui di fa la Matrix Ho l'ulti, ho l'ulti Io sì Vai, quando vuoi te Copri il Phara con la Matrix Aspa se, d'è, d va Ma, ma, menti? È morto? morta lì va pure solo per tenere di dopo di riesci ultimo morto soldier sicuro morto anche rieper vietami vietami a orisa è l'uomo parti sono l'uomo c'è un hp lo giuro vai 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 eh l'ha curata morto morto soldier fatto soluzione volta volta giorgio voltato vipotenzio 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 rossi vai 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 raga ok ho l'ultima il prossimo fighter ora possiamo vipotenzio vipotenzio sono due qua dietro morta ultimo qua dietro martin ti tengo ti tengo ti tengo qua dentro stato lo giuro c'è soldier l'hp cc raga easy easy l'avevamo detto l'avevamo detto che pareggio zio che pareggio va bene va bene dai mi scuvi però dimmi come sei andata ma no buono buono pure la la urt sull'ultima era buona che pure è urtato ma ha usato battisti la trem la immunity eh tra due però io e quindi hanno mercy fidelis hanno cast di anche oh ho visto ma è in shadow ando moira one scendi quando vuoi però da qua sopra morto riprò morto riprò sto giusto metti ressa morta morte morta seguitelo sempre lo posso restare in capo resta brava sono morto ho la ultima cascini muore è morto cazzo lì fuori dietro 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 è lo è lo è lo fai fairo se vuoi multa che te la ricarichi tanto pure voi solo per uno e vuoi dove stai andando martin? tranquillo tutto calcolated oh ma è uno dietro di noi no raga però è una rottola stai soccato io 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 vieni vai 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 oh è andata la casa io ho ultato ma vieni da me il gioco no no ma va bene dipendiamo qua sopra da qua da qua c'è rosa c'è uno lì fastidioso no ma non dobbiamo stare qua siamo pure così no raga non dovete andare qua 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 da me io ci sono già da un pezzo dai che fanno sboccare questi contro dai che fanno sboccare questi contro vai 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 pure raga dovete pushare raga dovete pushare che fuori macri morto vado 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 bravo no basta 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 dopo un pick no dopo moira qua sotto morto reaper morto moira ho più che non ti vedo signorina venite nel tank come dovete far morire il tank l'ho restato io l'ho restato io pure se morì di ps non succede niente merci morta merci morta ulta se vuoi fra vai ulto io vai ash morta ragazzi si si casti morto ok bene pushate l'ho restato l'ho restato l'ho restato la merci focus e one hit pure 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 sono sopra io ho soldier da me aspetta morto soldier vieni dall'altro lato no mi sto primi droppando per l'amore di dio ti devi tirare tu la ulti qua si tranquillo conservati una bubble per la para che ulti altra poco ult 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 va bene 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 uuuhh che tradice io ho tirato a questo ti resto Kika vai easy uuuh quello bella bella molto buono molto buono non è mai bravo pure questo vado per gli scuoli ci stanno vai con i controi sono inguardabili fu qua preso? vai grande vado avanti un pochino auguri grazie cura cura ti sto curando Kicca vai ulto non ti vedo non ti vedo eh no Kicchi no mi ha messo la sfigata ti giuro l'avevo perfettamente il raggio l'avevo ho chiuso sopra ho chiuso sopra 3 sul punto 3 sul pedo che ulti abbiamo? appena ti desicarica tirala 3 ora 2 ti prendi un buon position ok io la ulti la uso? vai 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 andate 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 mi hanno ucciso ma era uno morta morto sono morto ma è morto avrei però che palle però eh io ti sto bella raga rossa ma ti ammazza cosa ok bella 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 se non sono platina adesso dovrei essere platino 4 minimo ho plat 4 plat 3 non può cioè non può a me manca una win invece per rancare vedere cosa mi da plat 4 signori plat 4 abbiamo azzeccato abbiamo azzeccato non possiamo più giocare io direi Gigi in chat bene ragazzi eccoci arrivati alla fine di questo video io spero che vi sia piaciuto come avete visto finalmente abbiamo raggiunto appunto il platino 4 quindi sono molto soddisfatta essendo che ci gioco da neanche due settimane quindi tanta tanta roba e devo dire che mi sto trovando veramente bene come DPS soprattutto con Fara Fara attualmente è il mio main anche se ovviamente è molto diciamo situazionale e secondo me a rank alto è un personaggio che non workerà troppissimo perché è molto molto vulnerabile ma comunque se volete vedere anche altri video magari dove gioca appunto altri personaggi dove appunto rank fatemelo sapere qui sotto nei commenti che ovviamente sarò felice di portarvi qualche altro gameplay qua sul mio canale youtube di Overwatch 2 fatemelo sapere mi raccomando ragazzoni quindi lasciate un bel pollicione in su iscrivetevi al canale noi ragazzi ora ci dobbiamo salutare ma ci becchiamo ovviamente in un prossimo video dalla vostra cratomist è tutto bella a tutti ragazzi grazie a tutti